Rogero è stata la poco nominata responsabile dei gemellaggi. La settimana scorsa la committiva di ciclisti di Friedrichshafen, adesso guardiamo verso Newport. Esatto, abbiamo subito preso i contatti con le città con cui siamo gemellate, quindi Friedrichshafen che sono una città attivissima e hanno già molte cose da proporci e poi con Newport che è un po' il nostro gemellaggio del cuore perché è associato a quelle che sono la manifestazione forse più importante ad Imperia e sono le vele d'epoca. Come responsabile, assessore a questa parte delle relazioni istituzionali e internazionali sono molto felice di aver cominciato subito a lavorare e sono molto felice di avere due madrine come queste meravigliose ragazze per cominciare la nuova avventura con Newport. Io ci sono andata la prima volta a 19 anni come ragazza alla Pari e dare a loro il testimone è una cosa che mi riempie di gioia e di orgoglio. Quindi le aspettiamo vittoriose al ritorno per fare da madrina anche alle vele d'epoca. Grazie.